Quando finalmente gli uomini prenderanno consapovolezza che tutte le loro certezze, tutto ciò che pensavano e credevano che fosse la vita, sono ormai secche, obsolete, e si disferranno di essi per riuscire a vedere le cose in base alla conoscenza fin qui acquisita, si rendanno conto che è ben altra cosa di quello che finora hanno creduto e pensato. Solo così si potrà trasformare la vita in una realtà, non in una effimera illusione. Ci vuole solo coraggio per conoscere la verità, divenendo esseri consapevoli e allora la vita sarà veramente bella da vivere, dove ogni cosa avrà un suo giusto significato, una sua risposta logica, compreso il male o la disumanità che spesso fanno molte o moltissime persone. E solo dopo si potrà dire sono felice di vivere sapendo cos'è realmente la vita.